Ho da poco pubblicato un video sulla demo 1.0 di Rayman Retro Rumble per Sega Master System però è appena uscita la demo 1.1 e quindi ho realizzato un video nuovo questo Rayman è una hack di Alex Key di Miracle World la nuova demo corregge quel disturbo fastidioso durante la prima musica che si poteva ascoltare modifica un livello e ne introduce uno nuovo più ci sono altre piccole modifiche in descrizione trovate il link per scaricarlo come sempre vi ricordo che nel mio canale trovate una playlist dedicata a un brew demo hack e mod per Sega Master System e un like, un'iscrizione al mio canale e la condivisione di questo video mi faranno sicuramente piacere buona visione 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.